qui vediamo Linda, la compagna di Giuseppe Pezzo vediamo se vi stiamo un po' di pezzo se è arrivato si, è 331 e 39 Giuseppe Pezzo è 331 e 39 quindi potete stare tranquilli suocere di Giuseppe Pezzo va abitato anche il droppetto di tempo curato però ora da Negrente Daniela Negrente che vedremo più tardi